Cosa vi aspetta nel mondo del lavoro, sia che vada all'università, sia che... Un attimo, un attimo, un attimo, scusate, no, 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 scusate, scusate, per favore, lasciate i miei interventi, no, non va bene. Non mi sembra che il Partito Democratico non voglia dialogare, non voglia ascoltare, siamo qui, siamo qui, dialogare, per contesia, 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 parlare. Poi, ma che gira? Nessuno dice che che gira. Siamo qui, siamo qui, ma qui assolutamente per far parlare tutti quanti. Nessuno ci vuole, giuro, 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 giuro. Siamo qui. 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 Siamo qui.